Il DOS che gestirà questo lancio è il VF911, è al vostro orienzo. Avvicinamento approvato a riportare a 30 secondi dal lancio. Abbiamo bisogno di confermare l'aria libera. Il DOS è il VF911, è al vostro orienzo. Il DOS è il VF911, è al vostro orienzo. Il DOS è il VF911, è al vostro orienzo. Il DOS è il VF911, è al vostro orienzo. Il DOS è il VF911, è al vostro orienzo. Il DOS è il VF911, è al vostro orienzo.